Il punto di partenza è sempre Maseyo, la capitale dello Stato, una città giovane nata agli inizi del XIX secolo sull'onda del boom della canna da zucchero e cresciuta poi intensamente alla fine del Novecento fino a contare oggi quasi un milione di abitanti. L'eredità del fiorente periodo coloniale portoghese è rappresentata dalle belle chiese e gli eleganti palazzi concentrati attorno alle due piazze principali del centro storico, dedicate rispettivamente al maresciallo Deodoro de Fonseca e al maresciallo Floriano Pisciotto, i primi due presidenti del Brasile Repubblicano. La igreja Bon Gesus dos Martirios, con la facciata interamente tappezzata da Zuleios, il Tribunale di Giustizia, il Teatro Maresciallo Deodoro, la Cattedrale Don Nostro Signor dos Brasè, formano delle superbe quinte per il vario pinto spettacolo della vita che si ripete ogni giorno, sempre uguale, sempre diverso, sulle strade di marciapiedi di questa città. La igreja Bon Gesus dos Martirios, con la facciata interna La igreja Bon Gesus dos Martirios, con la facciata interna